Salve a tutti, oggi volevo recensire un liquido marca Vape of a Kind che si chiama Barista Brew & Co. Brew Company, qualcosa del genere. Strawberry Watermelon Refresher. And what's the gun away? Spacchime le gane. Comunque, questo liquido vero estivo adattissimo alla stagione attuale, io vivo in Sicilia, qua l'inverno non c'è, non c'è l'inverno, te ne devi andare sull'Etna se vuoi l'inverno, va bene? Per il resto l'inverno non c'è e quindi i liquidi ghiacciati li sbappiamo anche nel fantomatico inverno. Barista Brew Company, quindi Strawberry Watermelon Refresher. Frozen, c'è scritto, attenzione, frozen. Allora, è ghiacciato o è ghiacciato? Perché è ghiacciato? A me personalmente i liquidi ghiacciati piacciono, perché abitando in Nord Africa, me piacciono i liquidi ghiacciati. Ma a parte il ghiaccio non sa di niente. Sa lievemente un pochettino di tipo di fragola, un pizzichino di melone, scusate, di anguria. Però il sapore non è soddisfacente, c'è poco da fare. E ghiacciato è ghiacciato. Sapore. Quindi carissimi, vape of a kind, vi fate il liquido ghiacciato che non sa di niente? Vergogna! Grazie. Grazie.